al 5% per una aristocratica USA. Amici di Investire in Borsa Caccia di Dividendi, bentrovati e bentornati. Oggi parliamo di un'azione con un dividendo di sicuro interesse e con uno storico di rialzo dei dividendi molto interessante. Stiamo parlando infatti di un'aristocratica. Per chi non sapesse cosa sono le aristocratiche, ricordiamo che si tratta di un ristretto gruppo di azioni, in particolare americane, che hanno avuto la forza di alzare il proprio dividendo per almeno 25 anni consecutivi. Un dividendo al 5% risulta sicuramente interessante soprattutto in questo periodo di obbligazioni che hanno rendimenti che si avvicinano allo zero. Andiamo a vedere subito il grafico di questa azione di cui parlerò, grafico ultra decennale che parte dagli anni 90. Allora come vediamo ha avuto una crescita quasi inarrestabile con ovviamente i suoi cali, in particolare durante il periodo della crisi di Lehman Brothers e ha avuto il suo punto massimo nel 2014, quando la quotazione era andata oltre i 50 dollari. Attualmente l'azione veleggia attorno ai 22 dollari ad azione, quindi con una perdita inferiore al 50% rispetto ai massimi. Nel periodo peggiore di quest'anno addirittura l'azione ha toccato 14,91 dollari, quindi con una perdita di oltre il 60-70% rispetto ai massimi di 6 anni fa. Il dividendo ai prezzi attuali è del 4,8%, quindi di sicuro di grande interesse. Il PE è di 10,14, molto basso, altro dato interessante. L'EPS, ovvero l'Earning per Stock, ovvero l'utile per azione, è di 2,22 dollari contro un dividendo di 1,08. Questo vuol dire che il payout è inferiore al 50%, altro dato molto molto interessante. Ma quindi come è possibile che un'azione che abbia dei fondamentali così interessanti, quindi alto dividendo, basso payout, basso PE, e che riesca ad aumentare il proprio dividendo da almeno 25 anni, come è possibile che la quotazione sia così in calo da 6 anni? Ricordiamo infatti che nella mia strategia di investimento, ovviamente affiancato a un dividendo in crescita, voglio avere anche una quotazione stabile e crescente nel tempo, chiaramente consapevole che nel breve periodo ci può essere tutta la volatilità del caso. Io, come sempre, sono Lorenzo, per chi non avesse mai visto i miei video, sono autore anche di un romanzo finanziario pensionato a 50 anni, vi consiglio di andare a leggere le prime pagine gratuitamente su Amazon. Se vi piacciono le prime pagine potete acquistare il libro sia in formato cartaceo che in formato digitale. Il mio canale, Investire a Borsa Caccia di Dividendi, ormai riscontra un numero di iscritti superiore ai 350, sono veramente molto contento. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi e attivate la campanellina schiacciandoci sopra per ricevere notifiche quando ci saranno dei nuovi video. Condividete i miei video in modo da farmi una pubblicità gratuita, in modo da ingrandire questa community e avere sempre idee fresche e idee nuove. Torniamo però all'analisi della nostra azione misteriosa. Svelo subito di cosa si tratta. Si tratta di Franklin Resources. Molti magari la conosceranno meglio con il nome dei fondi o degli etf che gestisce questa società, ovvero Franklin Templeton. Facendo un breve excursus andiamo a capire cosa fa questa azienda. Un'azienda fondata nel 1947 è un'azienda di asset management. In pratica gestisce fondi e etf. Li emette sul mercato e il totale degli asset in gestione al 31 marzo 2019, anzi al 2020, qui c'era un errore, equivale a 580 miliardi di dollari. Questa è una scheda che ho trovato su suredividend.com. Quindi un totale di asset in gestione veramente altissimo, però che mostra un declino, una diminuzione del 16,9% rispetto al trimestre precedente. In parte dovuto a un afflusso negativo sui fondi gestiti da Franklin e in parte ancora maggiore dovuto all'andamento negativo dei mercati. In questa tabella invece possiamo vedere alcuni dati parametrati sulla singola azione. Quindi l'EPS che è Learning per Stocks, quindi l'utile per azione e il DPS, ovvero il dividendo per azione. E nella riga sotto, nella terza riga, il numero di azioni in circolazione espresse in milioni. Allora, molto interessante vedere le prime due righe. L'earning per Stocks, come vediamo nel 2010, era di 2,12$, è aumentato gradatamente fino al 2014 per poi avere un lento declino. Come vediamo quindi ha, alla fin fine, seguito l'andamento della quotazione stessa che abbiamo visto precedentemente, della quotazione dell'azione. Questo conferma che le quotazioni nel breve termine sicuramente possono andare un po' dove gli pare, ma nel lungo termine seguono sempre l'andamento dell'azienda. Non può esistere che un'azienda con numeri in declino abbiano quotazioni in rialzo nel lungo termine. Quindi vediamo gradatamente l'utile per azione che diminuisce negli ultimi sei anni. Il dividendo invece sta gradatamente aumentando. Andiamo a vedere la tabella seguente con un PE, quindi un rapporto prezzo-utile veramente molto molto interessante perché sta diminuendo, ormai siamo a livello di 10 punti, in questa tabella addirittura fa vedere 7.2, la tabella è aggiornata al 3 maggio, l'azione poi si è ripresa da questi minimi e quindi attualmente siamo vicini a un 10 circa come PE, il dividendo medio dell'anno adesso è diciamo attorno al 5% come abbiamo visto prima, qua aggiornato al 3 maggio era il 5.8. Interessante però è vedere negli anni precedenti quando il dividendo si aggirava attorno a un 1-2%. Perché era così basso? Ovviamente perché il dividendo espresso in dollari era inferiore a quello attuale, infatti è gradatamente aumentato, ma anche la quotazione era più alta. Quindi la percentuale, ovvero lo yield di dividendo è gradatamente aumentato per due fattori, il rialzo del dividendo in dollari e il ribasso del prezzo dell'azione. Interessante vedere anche il payout come si era mantenuto a livelli veramente bassissimi fino al 2018 quando era il 26%, attualmente è ancora molto basso, siamo addirittura sotto al 50% e quindi il dividendo appare ancora estremamente sostenibile. Chiaramente bisogna mantenere, Franklin Resources dovrà mantenere nel tempo un utile tale da poter sopportare un rialzo dei dividendo per restare appunto nella ristretta cerchia delle aristocrat dividende. Andando a vedere l'andamento delle azioni e del suo total return negli ultimi anni, vediamo come l'andamento sia stato abbastanza deludente, con un meno 3% nel 2014, meno 32 nel 2015, più 9 nel 2016, più 11 nel 2017, meno 29 nel 2018, l'anno scorso un meno 9, quest'anno Sure Dividend stima un più 15%, secondo me è abbastanza ottimistico. Quindi rispetto all'andamento del mercato in generale è sicuramente un andamento molto deludente, in particolare nel 2019 i mercati hanno registrato un rialzo di circa il 30% e Franklin Resources un meno 9%, quindi una differenza veramente abissale. Andando a vedere due dati molto rapidi di bilancio, vediamo come le revenue, quindi i ricavi, hanno avuto a partire dal 2014 un calo via via graduale, a mio parere abbastanza preoccupante. Il margine netto rimane comunque abbastanza interessante, vicino al 20% e anche gli utili hanno visto una graduale diminuzione a partire dal 2014. Torniamo al discorso di prima, il grafico, le quotazioni non mentono, sono strettamente legate all'andamento e ai risultati della società. Il totale della cassa attualmente è ancora in calo anch'essa, è stata sicuramente quest'anno drenata dall'acquisto di un'altra società di gestione del risparmio perché Franklin Resources ha acquistato Legg Mason, quindi in questo caso un'operazione straordinaria che ha inficiato sulla cassa della società stessa. Quindi, ricapitolando, siamo davanti a un'azione con sicuramente dati all'apparenza interessanti, un basso PE, un basso payout e un dividendo molto alto, ma come abbiamo visto la quotazione è in ribasso. La quotazione è in ribasso perché i dati di bilancio negli ultimi anni non sono stati particolarmente positivi. Come sempre, quindi, quando si va a selezionare la singola azione non bisogna fermarsi ai primi dati che si incontrano. Sicuramente i primi dati, come il classico PE, il payout, il dividendo, sono dei punti di partenza, però poi dietro va fatto un'analisi molto più approfondita. Sicuramente per fare questo ci vuole passione, ci vuole competenza, ci vuole tempo. Per chi ha voglia di cimentarsi in queste ricerche, io penso che sia qualcosa di molto interessante e anche, fra virgolette, lasciatemelo dire, di divertente. Ci vuole chiaramente la passione sull'argomento. Per chi invece non ha voglia di cimentarsi in queste ricerche, non ha tempo o semplicemente non è appassionato a questo tema, la cosa più semplice è evidentemente rivolgersi a strumenti molto più diversificati, molto più semplici anche da comprendere, come può essere un fondo o un ETF. Un ETF, tra l'altro, molto interessante è quello che ho analizzato un paio di giorni fa, che investe direttamente in tutte le dividend aristocrats e di cui vi metterò comunque il link nei commenti. Allora, con oggi abbiamo finito, come sempre vi invito a scrivere i vostri commenti, sia positivi che negativi, nello spazio dei commenti qui in questo video YouTube e mi trovate poi sempre anche su WordPress, su Facebook, Twitter e Instagram. Un caro saluto a tutti, a presto!